La mentele che anche con la neve hanno il suo spazio, noi abbiamo girato dei servizi relativi alla capacità della provincia di pulire le strade, abbiamo girato ieri i servizi in centro per far vedere che insomma bene o male la mobilità è garantita, ma ci hanno segnalato ed è vero che i marciapiedi non esistono, quindi che cosa succede? Succede che i pedoni nel più, in questo caso per esempio la gente ha pulicchiato, ma nella maggior parte dei casi le persone sono costrette a camminare lungo la via e allora succede che è un po' pericoloso. Ecco questo dovrebbe essere l'esempio di ogni abitante, bravo è l'unico che spalla lei! E qui per esempio siamo a Porta Trieste, Trento Trieste, Porta Sant'Andrea, vedete che qui addirittura c'è un cumulone in mezzo alla strada e i marciapiedi sono tutti innevati con rischio ghiaccio, perché se non vengono puliti poi praticamente succede che si ghiacciano e diventano ancora più pericolosi. Poi c'è chi ha abbandonato l'auto per paura della neve e quindi ostruisce anche la parte pulita nei marciapiedi, in questo caso una signora col bambino viaggiano proprio in carreggiata. Ecco vedete poi ci sono delle macchine che sono state parcheggiate e che non sono state rimosse, questa addirittura ci ha fatto un igloo e quando dovranno ripartire sono costretti a mettere le catene perché i cumuli fanno sì che essi non possano uscire normalmente. Ecco vedete qui addirittura il marciapiede è ostruito e vedete ci sono già degli operai che cercano di pulirlo perché lo spalaneve, ecco il pedone, l'assurdo è che il pedone è in mezzo alla strada perché non può stare sul marciapiede e sono i disagi di questi giorni. Ecco vedete tra l'altro qui siamo nella zona Giotto, il peso della neve ha fatto anche spezzare pericolosamente dei pini che sono, guarda ce ne sono ancora degli altri quindi per grazia di Dio non c'era nessuno quando poi sono caduti, magari queste sono operazioni di messa in sicurezza che andrebbero fatte prima che venga la stagione della neve. E questa è l'immagine delle lamentele, vedete la signora che cerca di guadagnare un marciapiede che non esiste perché qui camminano sulla neve, il marciapiede c'è, ma è ricoperto di neve che poi è anche ghiacciata ed è estremamente pericolosa. Io credo che ci voglia attenzione e che giustamente i cittadini si lamentano ma bisogna anche venirsi incontro, se proprio volete fare appallate, noleggiate dei disoccupati colorchite e penso che sia la migliore soluzione.